Quando Bossi mi dice stai a casa, frega bene dalla Sicilia, frega bene dalla Puglia, di Roma e dalla Sardegna, secondo me sbaglia, perché l'Italia è bella, perché è diversa e vince se è unita. Io sono contento di essere qua, perché solo qualche anno fa sarebbe stato impensabile che il segretario della Lega fosse a Palermo e io sono convinto che Musumeci vincerà proprio grazie al voto di quei siciliani che vogliono il cambiamento e lo sceglieranno con noi con Salvini. Poi non sono bravo a dare percentuali, però sono convinto che faremo bene. Perché mi danno del fascista, sono abituato a fascista, razzista, xenofobo, sovranista, populista. Io ho dato Bossi. Baglia, perché non è mio diritto, è mio dovere venire in soccorso del pescatore, degli agricoltori e degli studenti siciliani. Quindi se Bossi non è d'accordo mi spiace per Bossi. Ho fatto una scelta precisa, i numeri dicono che stiamo facendo la scelta giusta e quindi per me Palermo è casa mia come lo regolano.